Mi impazzisce una missi io che la donna se può non c'è. No, no, no. Ok, non leggo la valla di spiuto, lui con le mezzassi. Andrò a sto, you've been voted out. I telefoni? E uno è anche il tuo? Voi, queste li dovremmo fare un toco. Voi dovremmo fare un toco a chiacchiano. Oh, questo è il mio dato. Che c'è il nostro canale? L'amore, l'amore, l'amore! No, non, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Oh, questo è il mio dato che che erano i fatti a scicchioli.